Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione in formato podcast. Il motivo principale di questa scelta è sicuramente riconducibile al fatto che la mia fotocamera è ancora con diversi problemi e quindi ho deciso di accantonare un po' la ripresa video nonostante avessi trovato il modo di registrare con la webcam del computer. Visto l'enorme differenza tra le due riprese, diciamo che ho preferito continuare con recensioni podcast, almeno in questo caso. Quindi ve lo dico, nonostante questa non sarà l'unica immagine che vedrete sullo schermo, questa è comunque una recensione più da ascolto che da guardare. Finalmente è uscito The Marvels e dico finalmente non perché fosse un film che attendessi da tanto tempo, anzi diciamo che non è che avessi così tanto hype nei confronti di questo film, però una cosa che scaturiva in me era sicuramente la curiosità di vederlo, capire di cosa avrebbero parlato e soprattutto capire in che modo ne avrebbero parlato. Fino a qualche giorno fa sembrava anche un film abbastanza tranquillo nella presentazione della trama e degli eventi. Poi con l'ultimo trailer uscito ieri, per me che sto registrando, ovvero l'8 novembre, la posta in gioco sembra essere cambiata e maggiorata di gran lunga. Il che mi aveva convinto davvero poco perché mi sono forse stancato dei film Marvel che hanno in gioco una posta così alta. Un intero pianeta in distruzione, in pericolo, o più pianeti in questo caso tranquilli, non è spoiler, anzi vi informo già adesso che la recensione sarà per lo più senza spoiler, poi verso il finale con un avvertimento iniziale ci sarà la parte più spoilerosa con i dettagli, ma andiamo con ordine. Intanto, essendo un fan dell'MCU, avevo già visto tutti i prodotti che bisognava aver visto prima di questo The Marvels, ovvero Captain Marvel naturalmente, poi Bandavision per quanto riguarda la Rambo e Miss Marvel proprio per Kamala. Non inserisco assolutamente Secret Invasion perché, ragazzi, no, non c'entra assolutamente niente con Secret Invasion. Adesso, spero a questo punto che sia un film ambientato prima di quell'orribile serie perché altrimenti non si spiegherebbero tantissime cose, ma in caso contrario credo che a questo punto anche persino la Marvel e i Marvel Studios abbiano deciso di eliminare dalla mente collettiva questa serie. E forse è stata la decisione migliore. Per quanto riguarda il personaggio di Captain Marvel io non sono mai stato un detrattore, anzi il primo film uscito nel lontano 2019 ormai mi era anche piaciuto. Magari uscissero ad oggi dei film del genere. Ovviamente non è un capolavoro, non è nemmeno chissà che grandissimo film, ma messo a confronto agli ultimi film Marvel sicuramente è un buon film. Per me il personaggio non è neanche mai stato così tanto antipatico, però ho notato naturalmente un cambiamento nella caratterizzazione. In Endgame era già più gioviale, in Shang-Chi ancora di più e adesso in questo The Marvels vi posso dire tranquillamente che è totalmente un altro personaggio. Sembra molto più tranquilla con tutti e tutto e soprattutto molto più divertente e divertita. Quindi si noterà magari ancora di più questo stacco e questa differenza, magari risulterà ancora più antipatica la Captain Marvel del primo film. Per la Rambo invece ho visto WandaVision, mi era piaciuto il personaggio fino a un certo punto, poi sul finale invece diciamo che tutta la faccenda dell'Origin Story ha un po' distrutto tutto l'immaginario che si poteva avere del personaggio, però hanno cercato in qualche modo di introdurla già in questo The Marvels, nonostante vedere WandaVision serva assolutamente. E non parliamo naturalmente di Miss Marvel. A me la serie di Miss Marvel non è piaciuta tantissimo, anzi paradossalmente a me è piaciuta la parte in cui era molto teen, e appena poi è diventata una serie Marvel standard con 10.000 personaggi e non solo, e nemmeno uno spiegato decentemente, l'ho droppata mentalmente, l'ho finita, infatti c'è anche la recensione su YouTube, quindi l'ho finita fisicamente, ma avevo già abbandonato il tutto. Nonostante la serie non mi sia piaciuta, il personaggio di Miss Marvel Kamala Khan invece mi era piaciuto tantissimo, anche perché sembra avere un po' l'occhio del fan all'interno del prodotto. E alla fine questo è. E lo si nota ancora di più in questo The Marvels, infatti nonostante qualche comportamento un po' esagerato, ma vabbè, è comunque una ragazzina, non so adesso quanti anni dovrebbe avere, ma nemmeno 18 credo, ma molto più piccola nella finzione del film naturalmente. Ed è proprio il fan numero uno della Marvel in generale, ovviamente inconsapevole di farne parte, ma nemmeno poi così tanto, c'è comunque qualche inside joke divertente, un po' meta. Indubbiamente quindi tra le tre protagoniste, Miss Marvel Kamala Khan era il personaggio che attendevo di più di rivedere. E infatti il risultato è quello che mi ha divertito di più durante la visione. The Marvels è un film divertente, e non me lo sarei assolutamente aspettato. Direi che è stata, diciamo, una mezza sorpresa, ovviamente con tutti i problemi del caso, appunto i collegamenti con Secret Invasion assenti totalmente, quindi spero appunto in un prequel, oppure un elemento che avrei voluto un po' più approfondito in un rapporto tra due personaggi, o ancora il modo in cui si risolve tutto, ci sono i problemi. Non è assolutamente esente da problematica, e non è un grandissimo film, è un film tranquillo, nonostante alcune cose presentate, diciamo che potrebbero un po' cambiare l'MCU, o meglio, prossimo MCM, non Minimo Comune Multiple, ma Marvel Cinematic Multiverse. Ovviamente non cambieranno mai l'acronimo, però avrebbe un minimo di senso. Però tornando ai pro di The Marvels, perché ce n'è, secondo me è un bene che duri solo un'ora e 45, se non sbaglio il film è più corto dell'intero MCU, e nonostante il tempo e il ritmo non sia stato gestito al 100% nel modo esatto, secondo me è un film che si fa seguire tranquillamente, anzi è proprio una sorta di speranza il fatto che duri così poco. Mi sono sinceramente stancato dei film che non hanno assolutamente bisogno di una durata eccessiva, e invece l'hanno allungando il brodo di tantissimo, Black Panther, Wakanda Forever, e quindi dai, per me è assolutamente un bene la durata, anche se con qualche riserva di cui parleremo fra poco. Come ho già detto, è un film che, oltre a intrattenere, diverte anche, ci sono delle scene che mi hanno veramente fatto ridere, altre che hanno l'obiettivo di far ridere, infatti quegli altri quattro gatti, scusate il gioco di parole che capirete ovviamente dopo aver visto il film, quei quattro gatti che erano con me in sala, infatti poi parliamo anche di questa cosa, hanno riso a quest'intera sequenza, che dura qualche minuto, io avrò riso magari solo alla primissima volta al primo esempio di questa cosa, invece di averlo così tante volte ripetuto e così tanto allungato. Appunto in sala c'erano poche persone, per un film Marvel è una cosa molto strana, perché persino per Ant-Man, e stiamo parlando di Ant-Man, il flop della Marvel, la sala era piena, questa volta invece no, una sala XL non era assolutamente nemmeno alla metà. Prevedibile anche il motivo, sfortunatamente, tre donne come protagoniste, due non caucasiche, la terza, non voglio fare spoiler ma andiamo magari nella seconda parte del video. Poi uh, anche una villa in donna, mamma mia! I fan Marvel sono davvero spaventati dalle donne, però davvero contro ogni aspettativa il film mi ha davvero divertito. Kamala rimane sicuramente il mio personaggio preferito del trio e per quanto riguarda appunto la faccenda poteri e switch tra le componenti del trio, la cosa è stata gestita anche bene. Ci ho messo un po' a capire il perché cambiassero in un determinato momento e non sempre, non sempre all'attivazione del potere, ma questo è un problema mio, si capisce diciamo all'inizio che lo switch avviene solo quando due o più delle tre appunto attivano il potere allo stesso tempo. È ovvio che naturalmente questa cosa poi giocherà a loro favore in qualche modo, anche se non ho apprezzato al 100% il momento in cui, il momento di passaggio diciamo tra la prima parte del film e la finale. In realtà ho apprezzato la parte centrale, ma non la scelta di presentare alcune cose in modo così stretto e veloce. Ecco appunto uno dei problemi del film, il ritmo come ho detto. La durata è perfetta per quanto mi riguarda per un film del genere, ma il tempo è stato gestito in modo sbagliato. Sul finale soprattutto perché succedono delle cose in tempo record. Per quanto riguarda la villain, invece, Darben, interpretata tra l'altro dalla compagna di Loki nella realtà, diciamo che è uno dei villain di serie B dell'MCU, un po' come il Case Ilius di Doctor Strange o lo stesso Ronan in Guardiani della Galassia Vol. 1. Tipico villain da una botta e via e infatti è quello che mi aspettavo. Credo che probabilmente, avendo a che fare con Tom Hiddleston, Loki, sia stata un po' sul set della serie e abbia visto il metodo di recitazione di Jonathan Majors per colui che rimane nella prima stagione e abbia un po' preso le faccette per questo ruolo, perché in alcune volte sembrava veramente una recitazione caricaturale molto esagerata per quello che stava facendo il personaggio. Non che sia l'attrice ad avere dei problemi con la recitazione, non posso dirlo, non la conosco. Non ho visto il film in originale, Zahwe Ashton, sto leggendo il nome, spero si dica così. Non mi pare di averla mai vista neanche in altri prodotti, quindi non proferisco parola sul suo metodo di recitazione, però in questo determinato ruolo, Darben, villain di The Marvels, diciamo che non mi è piaciuta poi così tanto. Da vedere anche in originale, diciamo, per quanto riguarda le faccette alla Majors, siamo lì. E a proposito di Darben, mi pare che i Marvel Studios ci abbiano leggermente preso in giro con l'ultimo trailer, perché ricordo la voce di Thanos dire qualcuno continuerà il mio lavoro. E sembrava assolutamente riferirsi a Darben, magari anche lei, adesso non vedo il trailer da ieri, ma c'era una mezza conferma di questa cosa. Ecco, no, nel film non sembra assolutamente continuare il compito, l'obiettivo di Thanos. Anzi, in parte potrebbe anche sembrare quella cosa, ma non al 100%, perché il suo obiettivo non è quello di dimezzare l'universo, assolutamente. C'entra con il fatto del pianeta natale, ma Thanos non aveva questo obiettivo al 100%. Poi, andando avanti, per quanto riguarda appunto la Secret Invasion, qui non c'è nessun riferimento a quello che è successo nella serie. Non farò spoiler da quella cosa che chiamare serie è un po' difficile, divisa in sei parti, però qui Nick Fury non sembra assolutamente essere minimamente toccato da quelle cose importanti che sono successe in quella cosa su Disney+, e questo in realtà me lo sarei anche aspettato. Goose, il gatto, il Flerken, ci potrebbe stare. Non è uno spoiler, si vede anche nel trailer, c'è persino un poster. Ci sono i cuccioli di Flerken in questo film, ed ecco la scena tirata per le lunghe riguarda proprio gli stessi Flerken tirata per le lunghe e ripetuta più volte, che poi in sé per sé ci potrebbe anche stare, però non capivo veramente tutte le risate che sentivo, continuamente sulla stessa gag, sulla stessa battuta, anche no. A metà film poi ci sono alcune sequenze di una certa cosa che non spoilererò, è già stata rivelata in realtà tempo fa, persino l'anno scorso se non sbaglio, si sapeva di questa cosa, ma fortunatamente l'hanno tagliuzzata quella perché era molto più lunga di quella che abbiamo visto, perché ha visto il film naturalmente, e ringrazio chiunque abbia deciso di fare questi tagli perché è già stata abbastanza cringe, è eccessiva per quello che abbiamo visto. Poi all'interno sì c'è qualche battuta che fa anche ridere, sorridere diciamo, ridere un po' esagerato, però ringrazio davvero i montatori di questo film per aver dimezzato la durata di queste sequenze. Per quanto riguarda la risoluzione del tutto, ci sono un paio di problemi appunto come ho detto sul fronte ritmo, sul fronte durata, perché le cose che succedono sono molto veloci, tutte una dopo l'altra consecutive non lasciano il tempo di respirare allo spettatore, però ecco, le scene di combattimento mi sono piaciute, soprattutto quando iniziano a padroneggiare lo switch, non arrivano mai a farlo al 100%, anche perché succede tutto in pochissimo tempo, tanto per cambiare naturalmente. Fortunatamente però qui c'è qualche momento di pausa, tra un combattimento e l'altro non è tutta una scala di ritmo, e appunto il finale non mi ha convinto al 100%. Come disse qualcuno, troppo comodo, troppo comodo e troppo facile, troppo comodo, troppo facile e troppo semplice, e potrei continuare. Ah, e a proposito di citazioni al cinema, in questo film ce n'è una che mi è piaciuta molto, cioè ce ne sono tante naturalmente, ma una mi è piaciuta tra tutte. Però, per quanto riguarda l'ultimissima scena del film, non parlo della post-credit, perché la vedo come una cosa un po' a parte, però l'ultima scena del film, ecco, posso dire di essere contentissimo di essere arrivato alla fine e aver visto 1h45 per quella scena, che mi ha veramente divertito. Sapevo già che cosa sarebbe successo, perché in pratica anche la post-credit, io conoscevo già le sorprese che avremmo visto nella scena mid-credit, più che post-credit, però anche per quanto riguarda l'ultima scena, stessa cosa, però il modo in cui è stata presentata non mi era stato rivelato e l'ho apprezzato davvero tantissimo. E sono naturalmente curioso di capire a cosa porterà tutto ciò. È ovvio che porterà un certo determinato elemento dell'universo Marvel, ma voglio capire come ci arriveranno. Stessa cosa per la post-credit, ripeto, sapevo già tutto, però non sapevo il modo in cui sarebbe stata presentata e mi è piaciuto anche. Avrei messo un elemento sonoro diverso, un certo elemento più riconoscibile, riconducibile a una certa cosa, certo che si capisce, non è che non si capisca il riferimento o la presenza. La cosa è ovviamente più che chiara, però sotto il punto di vista, o meglio, punto di udito, avrei preferito qualcosa di diverso. La post-credit o il finale, cioè l'ultima scena, posso dire che mi hanno messo un po' più hype per l'MCU, per quello che vedremo in futuro. Aspetto di vedere il finale di Loki, il sesto episodio, per capire se potrò rimettermi un po' nella stessa linea d'onda dell'MCU e della Marvel, perché ultimamente ne sono totalmente uscito a livello emotivo. Quarta e quinta stagione hanno totalmente raffreddato il mio rapporto con l'MCU e niente, se non avete visto The Marvels, vi invito a lasciare il video di oggi perché gli spoiler inizieranno fra poco. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Twitter e Letterboxd, dove ho pubblicato una mini recensione appena uscito dalla sala, oggi, e in descrizione trovate anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd, dove ci sono tantissimi design nerd, cinema serie, libri, chi più ne ha più ne metta, c'è davvero tantissima roba, non solo t-shirt, e infatti avrete la possibilità di avere un paio di calze a scelta totalmente gratis. Come? Inserendo il codice Il Pensiero 4 al momento del pagamento. Così non solo avrete un paio di calze di ottima qualità non spendendo un centesimo, ma supporterete anche il mio lavoro sui social. E per questo vi ringrazio in anticipo. Ma se ancora non avete visto il film, vi saluto perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1, come primissima cosa vorrei parlarvi del ritmo del film. Allora, il film parte anche molto molto bene, diciamo che ci catapultiamo subito nel racconto, quello che dovrebbe succedere da lì a poco. Sì, c'è fin da subito effettivamente un momento di azione con il fatto dei poteri che switchano, non sono i poteri in realtà switchare, ma i poteri fanno switchare le tre supereroine, e la cosa viene presentata anche bene. Io ho capito solamente dopo che il fatto appunto dell'attivazione del potere in contemporanea, ma tutta la dinamica ci può stare. E poi ci può stare anche in tutta la durata del film, anche se il momento di allenamento che c'è nella parte centrale è un po' troppo veloce. Iniziano un po' a padroneggiare troppo velocemente il fatto di cambiare posto durante l'utilizzo dei poteri, però con la sospensione dell'incredulità loro sono troppo potenti, robe del genere, quindi posso anche crederci. Miss Marvel, Kamala Khan, divertentissima, davvero mi... è il motivo per cui ho riso più di una volta durante la visione. A proposito, la citazione che dicevo che mi è piaciuta molto è a L'attimo fuggente. Kamala guardando Carol fa Captain my Captain, ovvero capitano, mio capitano, e passando appunto alle dinamiche, alle tempistiche più che dinamiche del finale, Darben viene battuta troppo facilmente. C'è più di uno scontro con le Marvels, ma sul finale veramente troppo molto veloce. Anche l'agguato finale sembrava essersi redenta, invece no. Ecco, il suicidio, diciamo, perché quello è alla fine per il potere. Più che potere, in realtà no, non vuole potere. Il suo personaggio non è intenzionato ad avere il potere, ma a riportare la vita nel pianeta Kree. Vita tolta da Carol Danvers, perché eliminando l'intelligenza suprema, adesso non ricordo come si chiamasse, la madre suprema, una cosa del genere, quell'intelligenza artificiale del primo film che cambiava aspetto a seconda della persona che ne entrava a contatto. Ecco, dopo la distruzione di quello, il pianeta è andato in frantumi, il sole si è spento, non c'è più acqua, non c'è nulla, e tutta la faccenda della distruttrice di Mondi, adesso non ricordo come venisse chiamata la Captain Marvel dai Kree, ci può anche stare, soprattutto la dinamica tra Carol Danvers e Kamala Khan. A un certo punto, la stessa Carol è obbligata a lasciare morire molti degli Skrull di un pianeta e Kamala la guarda un po' stupita. Quindi c'era la possibilità di fare la dinamica del non incontrare mai i tuoi idoli, perché potresti facilmente cambiare idea su di loro. Invece non è stata presentata come cosa, secondo me è un'occasione mancata, ok, non ti potevano presentare Captain Marvel come villain, cioè come cattiva, agli occhi di Kamala, ma quantomeno far nascere questa problematica tra le due in un discorso, la stessa Kamala avrebbe potuto dire come, pensavo fossi una supereroina, hai lasciato invece morire quelle persone, perché appunto le chiama persone, essendo alla fine quello, e la stessa Carol avrebbe potuto dire eh ma una supereroina, un eroe, deve capire cosa poter fare, cosa no, comunque una sorta di, uno spiegone anche forzato, mi sarebbe bastato, invece no, è una cosa che è solo in una scena, in un piccolo sguardo di Kamala verso Carol e basta. Monica in tutto questo, diciamo che all'inizio fa la sorta di piagnisteo, più o meno, per tutta la faccenda di Maria Rimbaud, la scena dei ricordi indotti ci può anche stare, mi è piaciuta con Maria, con il cancro, e per quanto riguarda i legami affettivi di Carol, oltre che con Maria Rimbaud, a me sembra che in questo film abbiano in qualche modo confermato il legame più che di un'amicizia con Valkyria, perché si compare nel film per una scena sola, non è una presenza fissa, ha solo un cameo per aiutare gli Skrull, e a me è sembrata più che un'amicizia, quella sullo schermo. Era già un rumor di tanti anni fa, però non hanno avuto il coraggio di esplicitarlo al 100%. Le sequenze che ho preferito vedere ritagliate, tagliuzzate quella, sono sicuramente quelle del musical, perché questo film a un certo punto diventa un musical, come, beh, le tre vanno in un pianeta canterino, dove parlano, al posto di parlare cantano, però c'è il principe che naturalmente avrebbe avuto una scena da lì a poco importante in cui vederlo cantare sarebbe risultato un po' troppo esagerato e cringe, quindi lui è bilingue, ecco questa battuta mi ha fatto, mi ha fatto sorridere, bilingue perché riesce non solo a cantare ma anche a parlare, però molto esagerato vedere una cosa del genere veramente in stile Disney, a un certo punto spunta un costume stile principessa Disney addosso a Carol, ma spunta tra l'altro con degli effetti visivi e sonori da cartone Disney al cento per cento veramente delle stelline molto kitsch, non so come giudicare tutta la parte musical del film, sicuramente in qualche modo cercano anche di giustificarla, direi che pure le stesse Monica e Kamala rimangono stupite della cosa e prendono per il culo anche la stessa la stessa Carol per quel ballo, per il matrimonio con il principe, cosa che non viene poi così tanto caratterizzata, o è introdotta benissimo, però vabbè non è quello il punto focale del film. Andando avanti la famiglia di Kamala sempre perfetta, sono dei comprimari pazzeschi a me piacciono tantissimo, divertentissimi, anche con il connubio con Nick Fury che qui sì, è un po' da parte ma ha le sue scene, continuiamo a vedere Samuel L. Jackson dal 2008 e questa cosa non può che farmi piacere, a parte in Secret Invasion ma quella se la sono dimenticata pure loro quindi dimentichiamola noi e tornando al finale non ancora all'ultima scena e nemmeno alla post-credit tutta la faccenda dei portali che fino a quel momento erano solo di teletrasporto diciamo verso altre parti dello stesso universo diventano portali verso altri per mondi paralleli appunto. Bella la scena del sacrificio di Monica Rambeau anche se era ovvio che non sarebbe morta ma rimasta in un altro universo ovvio al 100% per me che sapevo già della post-credit e passando invece all'ultima scena prima dei crediti che bella mi è piaciuta davvero tanto mi ha fatto molto ridere sapevo già della presenza di Kate Bishop aka mia moglie Ailey Steinfeld l'entrata in scena del personaggio anche bello con l'ombra dell'arco che si vede per prima ma soprattutto Kamala messa nella posizione in realtà non nella posizione perché non si presenta così nel primo Iron Man però Nick Fury ragazzi bella bella mi è piaciuto il riferimento mi è piaciuto il modo in cui si presenta la stessa Kamala non solo allo spettatore appunto ma anche alla stessa Kate che naturalmente non la conosce e ragazzi che ve lo dico a fare non è che ci vuole chissà che grande inventiva e percezione per capire che stanno organizzando qualcosa per gli Young Avengers citano anche la figlia di Scott Lang Stature sinceramente non vorrei rivederla più ma a questo punto farà parte della formazione degli Young Avengers cosa che mi diverte e che farà sicuramente eccellere il prodotto che tratterà di questo gruppo serie o film che sia sarà un gruppo composto da molte ragazze almeno per quel che sembra per adesso ce ne sono già due la terza è stata citata quindi attenti fan Marvel con la paura delle supereroine però ragazzi sono davvero contento di aver visto questa scena all'ultimo che mi ha molto divertito anche perché a tutti gli effetti una parodia del primo incontro tra Iron Man e Nick Fury ma passando alla post credit beh sapevo già della presenza di bestia degli X-Men sapevo anche di Maria Rambeau come binary sapevo di Monica ovviamente in un altro universo ma non sapevo come avrebbero presentato il tutto e ragazzi vedere quella X quella porta ad X finalmente nell'MCU e non come porta del telaio della TVA ma proprio come porta degli X-Men sentir citare Charles Xavier vivo ancora vivo quindi non è l'universo 838 ma è un altro universo non penso al 100% sia quello del di conflitto finale appunto dei film degli X-Men con Hugh Jackman eccetera ma sicuramente c'è qualche elemento a che fare con quell'universo e infatti credo che comunque poi ci sarà un'incursione con questo stesso universo e gli X-Men di questa realtà andranno a finire nell'MCU penso sia proprio questo l'obiettivo di di questa multiverse saga l'unica cosa che almeno a me è sembrata mancare in questa scena una ripetizione nel tema musicale mi sembra che abbiano messo alla fine una la soundtrack di proprio conflitto finale o di X-Men 2 però è poco riconoscibile almeno la parte che hanno scelto a questo punto visto che finora è stato solo presentato così il gruppo degli X-Men o dei mutanti avrei preferito la sigla di X-Men la serie animata questa qui in pratica perché così è in è in Miss Marvel quando viene detto il nome mutante e così anche in Doctor Strange quando compare Charles con la sedia gialla da quella serie ecco nella scena in cui si vedono solo le mani blu di Hank di Bestia avrei preferito intanto un inizio più tranquillo della canzone poi quando compare la figura intera parararam bam bam ok ecco non la canterò mai più ma ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto ripeto The Marvels non è un bel film non è un film da strapparsi i capelli però mi ha divertito per un'ora e 45 mi sono sentito intrattenuto e anche ho riso sorriso cringiato per le scene musical o per i gatti ripetuti che mangiano ecco per esempio mi stavo dimenticando questo elemento la scena ripetuta è mantenuta enorme nel film è quella in cui i cuccioli di Flerken mangiano l'equipaggio della della come si chiama la Saber non ricordo non ricordo se è la Saber ecco quella tirata veramente per le lunghe infatti anche per quanto riguarda la CGI non ho parlato di CGI in questa recensione perché me lo sono dimenticato in realtà quindi non è finito il video spero non se ne sia andato nessuno perché no sto continuando la CGI ecco è fatta un po' a schifo coniamo questo termine a schifo perché i gatti sembrano appiccicati con lo sputo totalmente però per quanto riguarda i poteri delle tre Marvels ci può stare mi è piaciuto mi è piaciuto anche il potere Phantom di Monica Rambeau qui non viene nominato nessun nome da supereroina per il personaggio ci può anche stare si chiamano tanto The Marvels tutte e tre non so perché il principe Canterino le abbia presentate così visto che era un nome che aveva detto solo Kamala in una situazione privata però vabbè CGI quindi diciamo 50 e 50 a schifo nuovo termine per i gatti decente per i poteri e il combattimento i combattimenti ma adesso ragazzi fatemi davvero sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto perché la recensione finisce qui ripeto ancora una volta The Marvels non è chissà che grandissimo film ma io consiglio di vederlo probabilmente lo riguarderò una seconda volta che il mio pensiero cambierà perché sapendone di più in confronto a quello che già sapevo prima di vedere prima di vederlo per la prima volta indubbiamente qualcosa cambierà nella percezione quindi magari potrò vederlo in modo diverso però per ora mi è piaciuto sicuramente molto meglio di Ant-Man and the Wasp dei Guardiani assolutamente no i Guardiani non si superano quest'anno per quanto riguarda le MCU anche se in realtà si trovano nella mia top 3 film del 2023 proprio al terzo posto perché è Oppenheimer è Cross the Spiderverse è Guardiani della Galassia non ho ancora visto Killers of the Flower Moon quindi non è ancora definitiva ma Scorsese non mi convince sempre quindi magari rimarrà così chi lo sa e niente vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e i link di Pampling codice ilpensiero4 per supportare il mio lavoro sui social e avere un paio di calze gratis a scelta tra i miei social invece trovate Instagram dove pubblico post ogni tanto ma soprattutto storie di news e robe varie TikTok dove pubblico video appena possibilmente si aggiusterà anche la videocamera più frequentemente X l'ex Twitter che uso raramente ma comunque ogni tanto posto e soprattutto Letterboxd dove appunto ci sono le mini recensioni le mie liste le classifiche il mio diario giornaliero la mia watchlist tutte le robe che c'entrano con con il cinema con le mie visioni che vi consiglio quindi di andare a recuperare se volete dei consigli cinematografici o se volete sapere di più riguardo certi film che volete o che avete già visto lì c'è un po' tutto comunque vi consiglio di dare un'occhiata a Letterboxd e di scaricarlo se non l'avete perché è veramente un social ottimo per chi per chi ama il cinema tanto i link sono tutti nella descrizione non ci vuole tanto e ragazzi vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti